Che cos'è l'economia circolare? Marco, non ti preoccupare! Marco, amore, credo che ci siamo! L'economia circolare è quando la fine di un oggetto diventa l'inizio di una nuova vita. Dovrei smaltire questa tastiera. La tastiera può chiudere? Faccia questa rampa il primo cassone sulla sinistra. In Enea, per l'economia circolare, facciamo questo. Ma non solo. Offriamo competenze e tecnologie avanzate, grandi laboratori e infrastrutture specializzate per l'ecoinnovazione, per ottimizzare la produzione di beni e servizi, favorire il riuso e il riciclo. Abbiamo attivato la prima piattaforma italiana dove gli scarti di un'impresa diventano risorsa per un'altra. Questa è la nostra economia circolare. Questa è la nostra economia circolare.